salve da michele expert mi trovo nelle macchie sono vicino l'acqua principale e oggi sto passando il disinfettante sia per la peronospira per gli oidio per i fagiolini per il pomodoro melanzane tutto quello che c'è zucchine varie io quest'anno mi muovo in questo modo da tutto prendo un recipiente con un po di acqua promettiamo giusto raso questo bicarbonato di potassio se lo mettiamo poi mettiamo anche la zio lite in questo caso ne mettiamo due e mettiamo anche il lo zolfo ramato e mettiamo un po se i miei tre miscugli naturale 100 per cento per riuscire in qualche modo a proteggere dalla peronospira che è molto aggressiva adesso io che faccio giro in modo di diluire se lo mettiamo direttamente nell'acqua non riusciamo a diluirlo bene perché chiaramente bisogna poi sciacquarlo troppo così almeno siamo già pronti come fa la venice dopo di che abbiamo la nostra pompa vedete e possiamo versarlo qua adesso si riempie questa pompa di 12 litri ci siamo e possiamo fare il lavoro poi vi saprò dire se è veramente efficace grazie l'attenzione da michele expert